L'appartamento in affitto di due locali e mezzo si trova a Lugano, nel quartiere di Sorengo, in via ai Fiori 6, in posizione comoda per tutti i servizi, per gli accessi autostradali e il centro città, raggiungibili in pochi minuti. L'oggetto, arredato, si trova al piano terra, all'interno di uno stabile di nuova costruzione. I locali si compongono di una cucina open space, attrezzata con elettrodomestici di ultima generazione. Il mobilio è di alto standing, con una soluzione elegante e lineare di cucina e soggiorno. Dal soggiorno si accede a una terrazza a vista aperta, arredata con tavolo, sedie e salottino. Il bagno presenta un lavabo con mobile e specchiera, servizi con bidet e un ampio box doccia a vetri. La camera da letto affaccia anch'essa sulla terrazza e dispone di un armadio guardaroba a tutta parete. La camera da letto affaccia anch'essa.